Rest in peace Alia, rest in peace Lefi, Michael Jackson, I see ya Non ti tocca negli ultimi giorni, più dead di mio padre assoluto Allora ragazzi, sono rimasto qui, ci sono rimasto veramente male per come è finita l'ultima volta Cioè che avevo tipo 100, mi sembra, code da consegnare e non ho consegnate per tipo un secondo, un secondo e mezzo Registro la mattina, registro la sera, non faccio più vita Si vede cosa aspetto che mi sblocchi? In realtà i contratti I contratti perché? Poi posso anche farmarmi le offline in tranquillità, senza sentirmi, passatemi il termine, in colpa Dobbiamo fare la quest di Harry, si chiama Quella dei lupi È una quest parecchio carina, vi consiglio di seguirla appena ci arrivate Io la schippo, perché la schippo? Perché chi ha seguito la sera in Corea l'ha già vista Commentata, non tagliata, quasi Ah, così si gioca col controller? Attenzione, sembra carino Bello anche lo switch fra controller mouse e tastiera praticamente immediato Cambio dell'HUD, velocissimo Terra ha fatto scuola, eh? Terra nel lontano 2011 aveva stata figata She knows Let's go, ski Le capiglie Beh dai, fra... Rettivo la quest che... si è bloccata Voglio provare, se col controller, il problema del... del target Ovvero che a volte fa faticare il target del nemico e skillarlo Migliora Tra l'altro si corre con l'E3 Mi piace L'unica cosa è l'HUD è gigante col controller HUD piccolino La telecamera è molto lenta Quindi andiamo anche a velocizzarla Ok Mi targetta automaticamente quello più vicino, forse Col controller Sapete che... ci provo a giocare un pochettino Sicuramente è molto più comodo proprio a livello di posizione Cioè, col controller mi metto comodo nella sedia Entra in casa, qua devo fare un bucio Nel muro Veloce anche a schippare Ma... raga È fatto da dio Anche il cambio d'arma, guardate lì Praticamente Ok, cosa succede? Che differenza è di ciò che accade con mouse e tastiera Che se voi cliccate per dire, non lo so 4, dovete prima selezionare il mob Col controller mi sembra Che se io premo la skill numero 4 Quindi RB più A Perché con LB c'è l'attacco base Con LB c'è la schivata o il parry Comunque, se io vado a fare la skill Mi targetta banalmente il nemico più vicino E devo dire che l'HOD Gusto personale è anche più caruccio Allora abbiamo anche la leggenda dei comandi Possiamo scese della mappa così Abbiamo anche l'auto run Camera settings Party Return Ah, le trasformazioni Raga, attaccate il controller e le provate voi stessi Vi dico solamente questo Con il doppio select c'è la chat che mi si apre Sapete cosa che mi stupisce più del controller? I comandi intuitivi Cioè mi sto muovendo Senza guardarli E non è che clicco Dico Ah, non pensavo facesse questa cosa No, fa quello che pensavo che facesse Cioè il tasto A Mentre volo Effettivamente si alza In volo Dal colpo d'ali Immagino che quindi B Esatto Non l'avevo visto ragazzi Bravi Bravi No, no Ci siamo tolti dalle p***e Il nostro amitoi Abbiamo uno Nuovo Che è questo qui Ottimo, un bel po' di roba del season pass Season pass del battle pass Ecco che abbiamo sbloccato il lupo che vi dicevo l'altra Del bel game play Quello Lord Friendly Che mi piace molto Belle animazioni I modelli Aggiungo roba al libro dell'elettografia Quindi gli item Che hanno l'icona di un libro Non buttateli Ok Forse riesco di fare la figura Di scemo Ma i preset sotto Che posso salvarmi Tre preset Con Stat point Dedicati C'era anche nel coreano Non me lo sono mai in culo E' una cosa che ho messo adesso Perché è di una comunità disarmante GG ragazzi Vedo che è un macello Oddio Ci facciamo sia le gambe che gli stivali Critical hit chance Fammi andare da qui che sembra Porco due Palermo quando davano i redditi di cittadinanza Ah, contract manager Mi devi touch adesso? Ti pare così? Così almeno quando tipo sono le Cinque del mattino che non ho forza per respirare Manco per registrare Mi metto già a farmare qualche contract Per andare avanti Intanto qua ci fa craftare gli accessori Allora gli accessori Ne possiamo craftare due Collane Rigenerazione di vite Dai Andiamo con la cintura Anche qua mettiamo rigenerazione C'è una data suami toy Ma è stupendo E' grasso Posso dirlo? E' body shaming Guardate che bello Stramonto Ma sbaglio? C'è un'animazione carina Quando il lupo Entra in acqua Che provo a notare Per un pochettino Madocco Non è immediato Proprio c'è un'animazione Specifica anche per pochi secondi Per la transazione Tra Dalla lupo All'ontra Sta roba non è Comunissima Non dico mai Ma non è comunissima Negli MMO Magari la scelta Ai canali La metterei L'ho sempre detto Questa cosa Un altro discorso Adesso ci toghiamo Tutte le quest di Perché se no Impazzisco Ecco che ci danno I contratti Adesso possiamo Anche tranquillamente Fregarcene Delle litografie Perché tramite i contratti Li otteniamo Vabbè ci siamo capiti Prendiamo una per accessori Siamo uno su quattro Poi Una per armatura Rifresciamo Finiamo gli accessori E le armature Completata Madò che bella Che sei Comunque è bellissimo Giocare con controller Lo straconsiglio Lo tolgo Per un semplice fatto Non perché non sia più comodo Anzi Ma è questione d'abitudine Potrei tranquillamente Abituarmi Con il controller Sì funziona bene Sì Ah Skill Specialization Specialization Ci siamo capiti Valutiamo le skill Che uso di più Esempio Questa mi fa più danno Se la carico Con questo punto Ah diventa di ghiaccio E poi esplode Questamente range D'attacco di due metri Non ho passato Niente Per il momento Rimango così Inizio a mettere da partire Le skill Ad ordinarle Perché se no Non ci capisco niente Tra poco Quando inizio a prendere tante Sei stupenda Arrivo Questa è una Tamelein Comunque Guarda quanti player Tutti col piccione Questa è una Tamelein Questi stanno qua a gaterare Li teniamo sotto Attualmente Ho 60 Contra coin Così pochi Madonna Nel mio PG main In Corea Mi fa male Vedermi 60 Mi fa veramente male Questo si chiama Motekuro C'era un mio amico Che è conosciuto Lo straconness Che si chiama Metenkuro Vabbè E' un altro Sempre italiano Che si chiamava Banalmente Mr. Kazi Sempre Motenkuro Su Link di Tuz C'era un PG Che si chiamava Il Kai E lui lo chiamò Kai che abbaia Non so Michele si chiama Un saluto Ha detto da noi L'uomo granchio Perché Michele Ah Sutterà Sutterà mi ricordo C'era Cannon Che si chiamava Moana Pozzi Non so perché E' l'altro tipo Facebook star Non mi completamente accatta Io non ho ben capito Che vuole che facci In sta quest Anche perché mi sembra Che sia ancora Del gathering Nuove Che è il coreano Quindi se Sapete come fare Scrivetelo Magari è anche utile Per certi ragazzi Che come me Non hanno capito Perfettamente E potete essere D'aiuto anche a loro Guarda lì che swag Più mille aura Yeah Ah Ok Questa è molto carina Se le premobbare Anche se senza punti Specializzazione Non è granché Poi sbloccato Questa Che è bella Perché praticamente Avvicina Tutti i nemici Questa come vedete Non fa praticamente danno Però è utile Allora Torgo un attimo Che questa si può caricare Ecco Vado a mettere Che mi metto Attack speed La preferisco così Ok Io posso anche Mado E nel primo commento Supportate la serie Ed best Vi saluto E noi ci becchiamo Al prossimo video Ciao Ehi ciao Ti consiglio di guardare Per altri video Ciao Ciao